Ciao a tutti vicini Anazzurri, nuovamente al Meazza, è la ventunesima, è nuovamente Inter Cagliari, è Serie A, non è Coppa Italia e incrociamo le dita, il percorso è lungo, mamma mia ragazzi, incredibile, orario stupido e con questa atmosfera caldissima, ma no, sono dei cadaveri che cambiano, tu vedi la gente che dorme così ma entra allo stadio e voi entrate con noi Teo dillo tu, ragazzi siamo entrati, 850 gradi, no no non mi è piaciuta, si dice così e siamo dentro, questo video un minuto per dire che siamo dentro e fa caldissimo, c'è poca gente perché mattina presto ci sono 800 gradi e basta dai, comunque aspettiamo la partita perché è una partita importante Grazie 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 a tutti! 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 Grazie a tutti!